Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It Oggi siamo su Last Epoch, un hack and slash Che a quanto ho visto su Steam è uno dei più, diciamo, reputati quelli più belli Tra quelli più belli Ne sono usciti tanti a partire da quelli, vabbè, free to play, insomma Ha mostri sacri come Diablo, 1, 2, 3, Torchlight, Green Dawn Che purtroppo io non ho mai saputo apprezzare davvero Lo andiamo a provare, è una versione beta Vi faccio vedere un pochino le cose Allora, io eliminerei un personaggio, così ve lo faccio rivedere All'inizio possiamo scegliere tra 4, perché questo non è ancora abilitato, arriverà 4 aspetti diversi a cui saranno poi vincolate delle classi Come ad esempio questo, ci fa lo Spellblade, il Sorcerer, il Runemaster Il Sentinel ci fa la Forge Guard, il Paladin e il Void Knight Perché il Void è uno di quegli elementi che qui fanno danno E a cui serve una resistenza, così come il fuoco, il freddo, insomma, e tutto il resto Il Primalist fa lo Sciamano, il Beastmaster e il Druid Se cliccate poi potete vedere che cosa fa Questo è in grado di evocare degli animali Che ci aiutano Mentre lei, l'accolita, fa il Warlock, il Little Necromancer Che ci permette di evocare dei mostri Io faccio lei, perché l'avevo già fatta, insomma, ho imparato un pochino a conoscerla E vi spiegherò un pochino in che cosa consiste Una pecca di questo gioco è che non hai sottotitoli nei video E ovviamente è in inglese Però onestamente adesso inizio, non faccio neanche più caso a chi si indigna per i giochi in inglese Perché ovviamente è un indie, quindi non si può pretendere di... Allora, il movimento avviene con il tasto sinistro del mouse L'attacco con il tasto destro, poi ovviamente i tasti Q, W, A, E, R e i numeri Per pozioni e abilità varie In alto a destra vedete la mappa Che nelle zone blu ci fa capire che c'è ancora zona esplorabile Come potete vedere Qua c'è una chat Perché il gioco è online Intanto scusate ma passa, sembra il Mugello, la mia via qua sotto E in realtà il multiplayer, quando ho capito, non c'è ancora Perché vi faccio vedere Lo aggiungeranno, lo hanno detto Però, mi hanno detto, guardate, è una delle fasi ultime Prima di uscire dalle early access Allora, abbiamo la game guide Che ci spiega tutto Dal tipo di crafting L'utilizzo di shard L'utilizzo di rune, gliffi L'instabilità delle fratture dell'equipaggiamento Tutti i tipi di item Le meccaniche di combattimento La conversione del danno, insomma tutto Poi Il social dove possiamo avere appunto amici Però, come vi ho detto, al momento non dovrebbe esserci il multiplayer Abbiamo il ladder Con una graduatoria online con altri giocatori che al momento non c'è L'inventario Dove possiamo distribuire tutti gli oggetti Un po' come tutti i classici hack and slash La forge Dove possiamo andare a potenziare Trasciando sopra Usando dei modificatori, delle pietre Piuttosto che degli item di supporto Che sono delle pergamene E potenziare così il nostro equipaggiamento Poi Andiamo avanti con Il cosmetics Possiamo mettere dei costumi, delle armi O anche degli animaletti intorno a noi Che vanno a cambiare Soltanto il nostro aspetto fisico Se non ci piace l'armatura Che però è utile a noi La mappa La mappa è davvero molto interessante Perché La mappa Come potete leggere anche su Steam Diciamo la esploreremo in tempi diversi Noi siamo nell'era divina C'è l'era antica Vedete che la mappa cambia L'era imperiale E l'era della rovina Ci sono alcuni punti di intersezione Tipo ad esempio Quando possiamo arrivare fin qua Poi a quel punto la storia ci porterà Nell'era Diciamo quella in decadenza Quindi Noi siamo a Ulatry Cliff Arriveremo qui ad esempio E poi proseguiremo qua Come potete vedere Nella Divine Era non c'è niente Nell'emperial c'è la città E nella Ruined C'è la città in rovina Quindi insomma si faranno anche dei viaggi Temporali all'interno della storia Le quest le accettiamo da qui Cioè le vediamo quelle che abbiamo preso da lì E il Charakter Sono le nostre resistenze Le nostre statistiche difensive Offensive Il minion che abbiamo E così via Ultima cosa che vi mostro Skill attive e passive Le skill sono queste Le skill vengono sbloccate A livello 2, 3, 4, 6 Fino al 22 Ma a livello 4 Possiamo scegliere Una di quelle che abbiamo preso Che hanno questi concini Qui dell'albero Perché possiamo andare Spendere dei punti e potenziare A livello 9 Ne potremmo alzare un'altra La nostra scelta E così via Mentre le skill passive Non ho ancora capito a pieno In pratica sblocchiamo dei punti Sblocchiamo dei nodi E andiamo a sbloccare Delle skill passive Che poi ci sono utili Ora al momento Iniziamo Non c'è modo di ruotare La visuale a quanto ho visto Intanto attacchiamo Uso ogni tanto Anche l'abilità Q Per far danno L'ho trovato anche Piuttosto potente Il necromante Perché Come potremo vedere A breve Quando faremo Esperienza Qua sotto la barra gialla Appena appena visibile Diciamo Quella dell'esperienza Appunto Una volta che arriverà Al massimo Saliremo di livello E Già la storia cambierà Per quanto io adesso Magari mi trovi Un pochino in difficoltà Contro questi pochi mostri La situazione Dovrebbe cambiare A breve Perché il necromante Come dicevo L'ho trovato Una classe Piuttosto potente Vi dicevo Non ho mai saputo apprezzare Grim Dawn Non so dirvi il motivo Ovviamente Questo è un gioco Che farà La gioia Di chi è appassionato Di hack and slash Ovviamente È un hack and slash Quindi La lingua È relativa Insomma Dovete seguire la storia È vero Vi dico già in anticipo Che leggendo Sul vari forum Arriveranno altre lingue Ma probabilmente Non quella italiana Spero arrivino Almeno i sottotitoli Perché il gioco È comprensibile Insomma Quindi Siamo sempre online Da quello che ho capito Quindi si gioca Completamente online Anche se il multiplayer Al momento non c'è Ora abbiamo sbloccato L'abilità Dello scheletro Quindi V E ne evochiamo Uno Due Escono Due combattenti È un arcere E vedete che La cosa che mi ha sorpreso È che Rimangono Quindi non se ne vanno Come magari giochi Come Diablo Dove se non ricordo male Sparivano dopo un po' Comunque la maggior parte Dei giochi E soprattutto Sono dotati Di una semi-intelligenza Loro Nel senso che Vedono i mostri E li attaccano Come faremo noi stessi Quindi non è che Stanno lì Dobbiamo andargli addosso Li vedete magari ogni tanto Che si attardano Un pochino Perché magari Sono arrivati dei nemici E hanno dovuto combatterli Ora andiamo al Travelers Camp Un'altra cosa Che non ho trovato Molto bella Il fatto che qua Non si capisce Con chi dobbiamo parlare Perché insomma La quest dice Trova Stash Però può essere Anche una cosa utile Anche quella Perché ovviamente Qua non sappiamo Non utile Intrigante Il fatto che non li conosciamo Ci presentiamo Ah sei I Sfarger Io devo parlare con Corbin Quindi Corbin Chi è di voi Magari è questo qui E infatti è lui Corbin E qua si chiama Cordin Vabbè Due errori di traduzione Insomma Possiamo andare a vendere Oggetti che non abbiamo Al momento E possiamo anche Andare a comprarli Un'altra cosa interessante Che c'è qua In città È questa cassa Questa è una cosa Veramente interessante Perché qua Possiamo depositare Nella banca Ok Ma qui nulla di nuovo In realtà Spendendo del denaro Possiamo andare a crearci Le suddivisioni Quindi se troviamo oggetti Magari per un'altra Classe O O Qualsiasi altra cosa Vogliamo fare Uno slot Solo per Le staffe magiche Ad esempio E lo possiamo fare Quindi insomma È carina l'idea Diciamo Non è Non è La La follia Ma insomma Intanto Proseguiamo Si va a combattere Si continua Verso est Nel Verso Attraverso L'alto piano Del sud Intanto combattiamo Vediamo Saliremo un pochino Di livello Ovviamente qua Come vi ho già detto Il genere deve Deve piacervi Perché ovviamente Si combatte tanto E credo che questi giochi Siano da giocare Con una difficoltà Medio alta Comunque Perché Ed è molto importante Che il gioco Sia Tecnicamente Ottimo Cioè sia Di soddisfazione Non sia legnoso Non sia Lento Io ho dovuto Adesso non so Il video come lo vedrete Però io ho dovuto Registrarne già un altro Questo è il secondo Che faccio Perché il gioco Non so dirvi Potrebbe essere Anche appunto La pesantezza Anche se graficamente Non sembra Però Aspetta che ho sbloccato Questa che è una curse Una maledizione Che fa 30% in più Del danno Ricevuto ai nemici E in pratica C'è una streamer mode Che va a pesare meno Anche se il mio computer È nuovissimo E potente Però il gioco Fatica E scatta Scatta ma in realtà Giocandolo è fluidissimo E tecnicamente Non potevo chiedere di meglio Quindi Se il video adesso Che sto registrando Dove scattasse Insomma Un pochino È dovuto A proprio Una Non so Una mancata Ottimizzazione Da quel punto di vista Ma che giocandolo Non si percepisce minimamente Che non esiste È solo perché C'è un software Che registra Questo è Un aumento Del 100% Non so di cosa Dell'esperienza Abbiamo anche Un'abilità passiva Che però purtroppo Questo io Non ho ancora capito Come fare A prenderla Possiamo andare A potenziare Le varie cose Ma io ovviamente Posso prendere qualcosa Ah sì Ho preso questo In realtà L'accolito Siamo noi Poi Possiamo alzare Anche necromanti Io ho preso questa A caso Vorrei fare però Respect Vabbè Ho preso questo Che aumenta il danno Del 6% E anche il danno Loro Quindi meglio così Sto giocando Intanto qua Vedete che stanno scrivendo Chiedendo se il cap Dei frame rate È cappato Insomma è bloccato Io l'ho messo a 60 Vediamo Adesso io non ricordo Se posso già No A livello 4 A breve Andremo a prendere La prima abilità Io la metterò L'abilità di vocazione Scheletra Perché voglio dargli Più vita Scheletri Vedete che il gioco È notevolmente cambiato Perché Perché gli scheletri Fanno danno Allora Gli hanno rubato Uno shard Un cristallo E E quindi Niente Andiamo Facciamo la missione Dobbiamo trovare Lina E Lo shard Lì Nella Ulatri Cliffs Perfetto Osphrex Warrior Sembrerebbe un boss Ma un boss Non è Abbiamo fatto Il livello 4 A livello 4 Abbiamo preso Un'altra abilità Che è questa Che possiamo lanciare Che lancia In pratica Delle ossa Deforma Deformi Ma Possiamo fare Anche questa cosa Selezionare una skill Io vado a prendere Summon Skeletal E vado a potenziargli Con un punto Che ho Disponibile Che vedete qua Posso andare Gli metto Non lo so Meliare Ok Aria d'effetto Più 12% A punto Posso fare 5 punti massimo Quindi un 60 Di Percento in più Di aree di influenza E soprattutto 12 di danno 12% in più di danno Lo prendo Vedete L'ho preso Finisce lì Se invece Avessi voluto prendere Non so Questa Questo aveva altre cose Come ad esempio Fa più danno O Sumansi Una percentuale Del 12 14% A punto Messo Di farlo Due volte Con un lancio Solo Insomma E via via Si va Fino a diventare A prendere Delle abita Molto potenti Ok Andiamo All'ulatricliff Il gioco Il gioco è divertente Ripeto E lo ripeterò Sempre Deve piacervi Il genere Non posso dirvi Cioè Io Vi dico Prediligo Altro Prediligo Magari più i giochi Di ruolo Un po' La The Witcher Un po' Anche quelli a turni Non mi dispiacciono Però questi giochi Perché Comunque Ok Bisogna pensare Però Anche il fatto Di magari che so Dove fare dei mostri Più volte Per ottenere un loot Preciso Come era Diablo Non mi è mai dispiaciuto Anche se ovviamente Dovendo decidere Del mio tempo Vado su Generi Che mi piacciono Di più Ma Io Questo titolo qui Lo sto trovando Ottimo Anche perché Adesso il costo Non mi ricordo esattamente Scontato Forse 22 euro Arriva forse i 29 Ed è un gioco in beta Che verrà portato avanti Quindi insomma Anche il prezzo Non è Non è bassissimo Tra l'altro però Vendevano anche Torchelike 3 Alla stessa cifra Ma Con molti più problemi Quindi Allora Perché non posso prendere quello La health potion No Non me la prende Va bene Intanto Oddio Lancio Non sto usando abilità Io tra l'altro Perché non lancio abilità Ah si È la maledizione Se trovo merci Ok Se trovo merci più belle Adesso non ho capito Perché non fa il confronto Però Niente Crafting items La forgia Come vi ho detto Si potenza L'equipaggiamento Quindi è interessante Andiamo avanti Il fatto che io Comunque Continuo a giocarla Un po' come classe Mili Ma In realtà Dovrei stare a distanza E lanciare questi Mentre i miei due aceri Fanno il loro dovere Recupero anche del denaro Si va di qua E si va a concludere Credo Il primo capitolo No Non si può andare di qua Sì Di qua si può andare Credo Eccolo Julio Maledizione Scheletri comunque Sono fortissimi Perché c'è solo uno Che va in mischia Ora si affronta il boss Vado a lanciare Vediamo col tizio qui Perché ti attaccava Goodbye E prendiamo Lo shard Take the shard Abbiamo preso lo shard Ora succede Quello che succede Insomma Sto assaltando Volutamente In che la storia Anche a livello audio Perché non Non voglio Spoglierarvi nulla Però Vediamo Siamo nella Ruined Era Abbiamo completato La missione Quindi ci prendiamo 30 di esperienza 50 gold E si va avanti Qua è già cambiato Siamo dove eravamo Prima Ma tutto Più In là nel tempo Insomma Nel 1290 A G Che non so cosa voglio dire Insomma Qua poi la quest continua Dove sono? Ok Non leggo nulla Vado avanti Perché voglio Viaggia Con Il guardsman Willem Ok Ci da una mano Anche lui a combattere Insomma E si va avanti Perfetto Livello 5 Abbiamo raggiunto Livello 5 Abbiamo sbloccato Qualcosa No Direi di no Però abbiamo preso Un punto Qui Quindi posso No scusate Devo usare Questo Allora Dicevo Posso prendere Qualcos'altro Quindi posso Prendere questo Aggiunge i rogue Interessante Non posso Prenderlo Richiede Due punti Questo è figo Perché aggiunge Anche i ladri E gli scheletri Che posso prendere Bello 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 E dovete pensare Che poi tutto questo È solo una classe Cambiamo Classe E vi ricordo Sono 4 E ognuno di essi Ne ha Minimo 3 Di classi Ogni Diciamo Aspetto fisico Lo chiamo così Il personaggio Ha minimo 3 classi Da prendere Quindi sono Un sacco Quindi insomma È un bel Infatti questo L'accolito Che è lei L'aspetto fisico Resta quello Non potete cambiarlo Potete andare A prendere Una delle classi No Non posso Prendere L'abilità Di questo Devo andare Per forza Qua Paralmente Devo salire Qua mi chiede Increase 12 Ma non posso Quindi devo Prendere Altri Eh sì Ok Ho capito Devo salire Con questo Come fanno Tanti altri giochi Quindi niente Non si può andare avanti Bene Io salvo qui Lascio Il Il gioco Torneremo All'inizio Il gioco Appena acquistato Vi fa Creare un account Quindi dovete Registrare La vostra mail E password Insomma Probabilmente Per salvare I progressi Fatemi sapere Che cosa ne pensate E noi ci sentiamo Al prossimo Video Gameplay Alla prossima Ragazzi E ciao ciao